Tennis Tour I Love Abruzzo, seconda edizione, manifestazione sportiva di altissimo profilo, spettacolo e competitività sui campi del circolo tennis Prati 37, settimana alla femminile. A fine agosto invece toccherà agli uomini scendere in campo per gli internazionali maschili. Ieri la finale del doppio femminile, la coppia formata dalla pescherese Anastasia Grimalska e dalla teatina d'adozione Anna Scheffer ha prevalso al tie-break 5-7-6-1-12-10 sul tandem Pinto-Squarcialupi, la prima barese, la seconda toscana. Oggi alle 17 la finale del singolare, la Grimalska se la vedrà con la toscana Tatiana Pieri per la pescarese l'occasione di bissare il successo ottenuto lo scorso anno nella prima edizione del circuito I Love Abruzzo. L'organizzatore Luca Del Federico. Siamo alla conclusione di questa settimana del torneo internazionale regione Abruzzo a Ternogassa in Power Cup per l'appunto femminile e sono le due tappe di Pescara, a fine agosto avremo la tappa maschile è stata una settimana con tante giocatrici italiane e molte ragazze dall'estero, anche dall'Australia e quindi siamo al secondo anno di questo torneo internazionale femminile con un ripetersi di eventi in tutta la regione del tennis tour e l'Ovo Abruzzo 2022 che si va a concludere proprio a fine agosto con il 15.000 dollari maschile. La coppia abruzzese oramai di adozione Anastasia Grimalska e Anna Scheffer contro Pinto e Squarcialupi bellissima finale che poi vede peraltro Anastasia Grimalska di Pescara impegnata anche domani in finale di singolare.